Torna a Foggia i fiori blu, la rassegna di incontri con i libri e le voci del miglior panorama letterario e giornalistico italiano, ideata e organizzata dalla giornalista Alessandra Benvenuto con la collaborazione della libreria Ubic, a conversare con l'autrice nella suggestiva cornice di tenuta a fuia nera, l'editore Alessandro La Terza, ospite del primo appuntamento la scrittrice piacentina Sandra Petrignani, per raccontare la sua ultima opera La Corsara, un ritratto inedito e minuzioso di Natalia Ginzburg. Come nasce la sua passione, il suo interesse per la Ginzburg? Io credo che un po' per tutte noi l'interesse per Natalia Ginzburg viene dalle madri. L'essico familiare è uno di quei libri che ci hanno passato le madri e vedo che anche per le più giovani è così. Allora è un interesse che affonda proprio nella prima giovinezza e che poi si è rafforzato quando l'ho conosciuta e l'ho seguita nel suo lavoro perché poi l'è morta nel 91, quindi ho avuto abbastanza tempo per seguirla in diretta, diciamo. Perché La Corsara? La Corsara è un titolo fortemente voluto perché mi interessava mettere in primo piano l'aspetto battagliero di Natalia Ginzburg, che Corsara è stata anche prima di Pasolini. Pasolini, gli iscritti corsari, ha cominciato a scriverli per il Corriere della Sera nel 75, ma Natalia Ginzburg già collaborava da tre anni e con questo piglio polemico, controcorrente, e suscitando spesso delle reazioni molto forti. Anche perché era una donna che si muoveva in un universo maschile, ha avuto a che fare con tanti grandi intellettuali di quel tempo. Questo tempo invece che cosa offre? Il nostro? Sì. Il nostro è una domanda dura perché purtroppo il nostro tempo sembra offrire solo confusione, un'aggressività terribile, fortissima, ma anche che si avverte non solo nell'ambiente politico, ma proprio per la strada. E soprattutto, e questo me l'hanno fatto notare dei giovani che sono venuti alle prime presentazioni del libro, manca la figura del maestro, mancano i grandi maestri, manca una figura di eroe come Leone Ginzburg, ma manca anche un Giulio Inaudi, cioè qualcuno che, non parliamo di Cesare Pavese, ma insomma qualcuno che con la sua vita, con la sua passione e con la sua coerenza, come poi fu Natalia Ginzburg, ecco ti indica la strada. Quanto può essere appunto attuale il messaggio di una donna vissuta in un periodo così particolare come il Novecento? Io credo che sia molto contemporanea Natalia Ginzburg, più di altri scrittori, anche suoi coevi, insomma coevi a lei. Il Novecento in realtà è ieri, a noi con la rapidità dei tempi di oggi sembra lontanissimo, però impressionante come certe sue dichiarazioni, certe sue prese di posizioni sembrano di oggi. Ecco, quell'insegnamento che manca potrebbe venire da lei. Ecco, ci sono queste figure femminili, secondo me non sono abbastanza apprezzate nella nostra società, a contemporaneità, nella nostra tradizione.